Allora c'è una signora, una signora chiamala su Socela, no? Che gli fa? Dice, senti una cosa, ti volevo chiedere un consiglio perché io non sono ancora tanto diciamo pratica, ma quando il figliolo dice si fa la cacca addosso chi lo deve cambiare? Il babbo o la mamma? La mamma come sempre. Allora vieni perché il figliolo e l'ebriaco si è cacato addosso.